Eeeeeee!!! LUISA 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 LUISA!! Buon ruolo! Buon ruolo! Grazie a tutti! Grazie, grazie! Buonasera, buon ruolo! Buon ruolo! Buon ruolo! Buon ruolo! Buon ruolo! Siete tutti? Siamo tutti! Purtroppo sì! C'è qualcuno che è! Ma siamo tutti! A loro la società grazie di tutto, ragazzi. Grazie a tutti! Sìììì! Sììììì! Tipoitimido! 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 Eeeeeee! Tipoitimido! 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 Tipoitimidoy! Tutti a Lugano, andiamo tutti a Lugano Tutti a Lugano Ma ho visto Alemaggio Ho visto Alemaggio Ascattiamo Ma mamma, oh mamma, oh mamma, sai perché mi batta il corassone Ho visto Alemaggio, ho visto Alemaggio E mamma, innamorato solo Ma mamma, mamma, oh mamma, mamma, sai perché mi batta il corassone Ho visto Alemaggio, ho visto Alemaggio E mamma, innamorato solo Ma mamma, mamma, mamma